Musica È in corso al Palazzo di Giustizia di Ancona la requisitoria dei PM Bubinelli e Bavai per quanto riguarda il processo ai colletti bianchi nella strage della Lanterna Azzurra. Nove gli imputati, sono sei membri della Commissione di Pubblico Spettacolo che quella sera autorizzarono l'evento e poi anche i due tecnici e il gestore del locale. Probabilmente questa sera nel tardo pomeriggio arriveranno le eventuali richieste di condanna mentre invece la sentenza arriverà non prima di metà gennaio. Il Pubblico Ministero ha ripercorso in aula i passi delle varie udienze e in particolare ha riproposto un documento che accende un faro sulla sicurezza. Infatti nel 2015, ben tre anni prima della strage, un esposto anonimo metteva in luce le varie irregolarità della struttura ma anche l'alcol ai minorenni e il sovraffollamento della discoteca. E allora diceva l'anonimo nel suo documento soltanto una strage potrà fermare questa illegalità. Va da sé come la rabbia dei familiari sia naturalmente infinita. Abbiamo sentito le parole di Fazio Famiglia e papà di Emma, una delle giovanissime vittime di quell'8 dicembre del 2018 quando persero la vita 5 minori e una mamma di 39 anni. Sentiamo. Era molto circostanziata, era una lettra in cui vengono fatte denunce di vari aspetti che non andavano. sapere che il Comune di Corinaldo avrebbe avuto la possibilità di far luce e di chiudere quel locale definitivamente, non averlo fatto chiaramente fa crescere la nostra rabbia. Ripeto, per l'ennesima volta, da un punto di vista umano, etico e morale, per noi i colpevoli sono chiari, evidenti, senza possibilità di appello. Da un punto di vista giuridico non aspetta a noi fare i giudici e il giudice deciderà come ritiene giusto in base alla legge. Da un punto di vista morale, persone che per anni fanno finta di niente, è una cosa veramente assurda e insopportabile e inconcepibile che rende il nostro dolore, da questo punto, di vista assume un aspetto diverso perché si assume una rabbia incredibile perché se qualcuno, se le varie persone che hanno avuto in mano questa pratica avessero fatto non completamente il loro dovere, ma minimamente, il minimo indispensabile, il locale sarebbe stato chiuso e noi avremmo avuto i nostri figli a casa e tutto questo non sarebbe successo.